Buongiorno a tutti, porto il saluto del Presidente che assente per i suoi personali e ho il piacere anche di incontrarvi questa mattina per dare l'avvio a questo corso di estrema importanza. Molto spesso si può chiedere ma noi che centriamo con la costruzione del marciaio e che cosa centriamo noi con i calcoli strutturali. Non sempre è necessario essere autorizzati ad essere calcolisti, ad essere progettisti integrali della struttura di marciaio, ma è importante sapere le condizioni, le cause per cui si debba pervenire a una scelta dei materiali o a una scelta progettuale della costruzione, se debba essere in cittadini armati, in muratura o in acciaio perché deve far parte di un bagaglio culturale della nostra professione e che ci deve distinguere anche di una scelta. Quello che conta è avere le informazioni di base. Le informazioni di base devono partire anche dall'esperienza che ognuno di noi ha avuto. Per quelli che sono un po' più anziani hanno fatto tutto l'arco del terremoto del 1980, ma sicuramente ognuno di noi che ha operato in questo settore è consapevole che sono stati commessi anche degli errori, come non tenere conto dell'elasticità della struttura. Noi sappiamo benissimo, abbiamo capito per l'esperienza diretta, professionale, ma anche per averla vissuta, questo terremoto dell'80 e dell'Irpinia, è un movimento dell'unico che non ha limiti di comprensibilità di quanto accade, di come accade e quello che invece a noi deve interessare, deve interessare come si deve costruire, come si deve costruire al meglio e di creare le strutture del potenziale più flessibile e in questo campo credo che l'azienda che si propone qui oggi a dimostrarvi la costruzione in acciai è una di queste fasi in cui il professionista deve acquisire le nuove teorie sulla costruzione, sulla edificabilità, specie nelle zone del terremoto. Che dire di queste strutture in cemento armato, in acciaio, è delegato direttamente all'azienda che vi proporrà, però teniamo conto che non è una novità assoluta, è una scoperta che è conseguente alle analisi storiche che si sono fatte, ma la struttura in acciario è nata, e voi ricordate benissimo, molti di voi sicuramente la avranno visto, c'è la Torre Eiffel che è costruita, sembra di un'azienda in acciai, ma siamo ai primi, alla fine dell'Ottocento, e già si è parlata di questa struttura e della sua flessibilità, della sua cosa. Non intendo dilungarmi oltre in questo settore, perché la materia deve essere discerata con attenzione e deve essere eseguita con altrettanta attenzione. Voglio ricordarvi, così come istituzione, voglio chiudere questo argomento, ma auto-dispensandoci dal fare un riunito di raccoglimento, pensando oggi che è una giornata della memoria e di rivolgere un pensiero e una riflessione nel corso della nostra giornata per tutto quello che abbiamo capito attraverso i romanzi, attraverso la televisione, per onorare la memoria di quanto è stato sofferto da la gente e di quanto cattiveria si è dotata all'uomo nei confronti di questa generazione passata, augurandoci che facciamo riflessione, che ancora oggi, nonostante tutte queste memorie che noi facciamo, esistono ancora queste atrocità nei confronti dell'umanità. Mi fermo qui, vi porco il saluto del Presidente, del mio in particolare, e passo la parola all'Antonio Santosurso. Grazie. Grazie Presidente. Adesso la parola, entriamo già nel tema, al Presidente regionale Antonio Santosurso che illustrerà le competenze dei geometri, in quanto lui già è stato membro della Commissione Nazionale sulle competenze e quindi potrà illustrarci al meglio. Grazie Donino. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, insomma ci troviamo dopo l'anno scorso, insomma ci troviamo in un bellissimo seminario organizzato dal vulcano Iguain, insomma che già ci ha annunciato che ci sono già altri tanti appuntamenti nel futuro. Rispetto all'argomento di oggi, insomma noi tutti quanti sappiamo è venuto che io mi dilunghi su questo, il nostro regolamento risale nel 1929, questo che vediamo qui, il legge del decreto giustice per fare il 1929, numero 274. Il problema competenze, giustamente mi diceva Enzo, qual è rispetto a, oggi parliamo di strutture metaniche e di strutture interaiate alla fine. Per cui noi, nelle nostre competenze, alla lettera M dell'articolo 16, se si può andare avanti, gentilmente si trova l'articolo 16, la lettera M cita in maniera chiara, purtroppo chiara per noi, non per altri, non per i giudici a volte, siamo abilitati alla progettazione di direzione e sorveglianza di edifici di modeste entità civili. Quindi, non viene descritta quale materiale usato. c'è lì, progetto, direzione e sorveglianza di modeste costruzioni civili. Mentre prima, all'aerico ci dice quale sono le strutture incendiamate per cui potremmo anche calcolare, le modeste costruzioni da calcolare, quelle a che di moleste, ce lo dice chiaramente, e qui non ce lo dice, e probabilmente il legislatore in quel caso ha volutamente evitato di mettere la tipologia materiale usata. Quindi questo è a livello generale. Poi, ovviamente, su questo sono scatenate tantissime sentenze a favore e contro. Ovviamente, la parte noi cerchiamo di pubblicizzare tutte quelle da fronte. Gli altri cerchiamo di pubblicizzare tutte quelle comuni. Però, ovvio, è per il gioco delle parti. Però, devo dire, in quest'ultimo periodo noi abbiamo fatto un lavoro enorme a livello nazionale e questo deve fare atto al nostro Presidente nazionale attuale, San Vicente, che è molto padrone della materia, ho avuto modo di stare a Roma insieme a loro in una Commissione che ha cercato di dare un supporto ai colleghi che avevano difficoltà, i colleghi e i colleghi che si trovavano in difficoltà non poche, rispetto a parte che ci sono delle sentenze cari amici, che sono straordinariamente pericolose, che hanno stravolto veramente quella che potrebbe essere l'attività nostra, ma hanno stravolto anche e la vita delle persone, del collega. Sono l'architetto Cugliese, innanzitutto volevo ringraziare il Collegio Regione che ci ha dato la disponibilità di fare questo seminario formativo che è uno che fa parte degli altri seminari che noi abbiamo nel territorio nazionale che ha nei confronti di team che riguardano l'innovazione tecnologica e la sicurezza antifisica. Noi abbiamo da poco inaugurato uno spazio di esposizione e informazione a Montoro, in provincia di Aveduno, dove spieghiamo nei particolari questa nuova tecnologia, tanto nuova non è poi lo vedremo dopo, del colpo un stil, grazie anche al supporto all'interno del nostro spazio espositivo di sezioni in scala reale di due strutture che realizziamo in modo che possiamo essere quanto più esastivi possibili sia per i tecnici che per i clienti che ci vengono a trovare. Il nostro motto è tutto a un'evoluzione nel senso che nel corso di secolo abbiamo utilizzato di sparate di tecnologia a partire da lavoratura al cemento fino ad arrivare al colpo di stile. Non abbiamo la pretesa di dire che questa è la tecnologia migliore o non siamo qui per imporre in questo caso a voi geometri questo tipo di tecnologia. Possiamo però dire che è comunque una tecnologia che nasce oltre cento anni fa quindi non è una novità che noi stiamo portando sul territorio nazionale. questo si è sviluppato principalmente negli Stati Uniti e in Inghilterra già nella seconda metà dell'Ottocento. Un esempio tipico è la realizzazione da parte di Peter Nero già durante la corsa loro in California di abitazioni trasportabili in ferro. C'erano delle piccole unità di 6 metri per 4 facilmente assembabili perché erano date di scanalature in tagli e si riuscivano quindi a montare in meno di una giornata ma inoltre c'è anche l'American Iron Institute che già a metà del secolo scorso prima della metà del secolo scorso nel 39 aveva interesse ad approfondire questo tipo di tecnologia cioè quella del CFS e quindi incaricò il George Winter che è il padre dell'acciario formato di istituire una commissione insieme alla Cornel University per creare la prima edizione della normativa AISI sugli elementi in acciaio dopo FOMS però questo era un inizio rispetto a tutta la normativa che adesso c'è negli Stati Uniti e che adesso è stata anche ricevita qui in Italia grazie alle nuove tombe tecniche delle costruzioni del 2008 e anche alle nuove codice 3 da questa partenza che era già un inizio passiamo ad alcuni esempi proprio già degli anni 60 sempre negli Stati gli architetti Wexler e Harrison cercarono di concepire una struttura realizzata tutti in acciaio però con prezzi accessibili per la classe media statunitense lo vedete da queste immagini sono proprio gli originali del plastico questa casa è caratterizzata da un nucleo centrale che comprende cucina bagna la maggior parte delle tubazioni impiantistiche del progetto importante sono le fasi di cantiere già negli anni 60 qui già cominciate a vedere le prime soluzioni in acciaio laminato a spessori sottili la particolarità è che erano tutti i pezzi assemblati fuori sito preparati progettati realizzati fuori sito e poi portati in luogo e montati già con gru e con una velocità e una rapidità impressionanti già per l'evo ma anche potrebbe essere comunque non ha nulla da invidiare a quello che viene fatto oggi perché vedete già le immagini in basso a destra le ultime dell'assemblaggio delle pareti la velocità con le quali sono state realizzate e adesso la vedete come oggi sembra quasi un'architettura contemporanea e dopo 50 anni è ancora lì è figurato che già nel 2012 è stata inserita nelle rancost degli uffici storici dal dipartimento degli stati uniti molta cura dell'architettura Wexler già all'epoca sui dettagli proprio perché progettando in acciaio bisogna avere molta cura nel progettare dimensionare quindi già il concetto di progettazione integrata cioè sia l'architettonico che lo strutturale che riguarda anche gli impianti o le parti dell'edificio dimensionate e quantificate già nei minimi particolari in modo tale che in cantiere si arrivi con pochi o nessun dubbio sia anche per la fase di montaggio dei vari elementi importante infatti che già negli anni 60 si parlava di comfort interno degli ambienti si può vedere anche dai sistemi di isolamento dalla possibilità del passaggio delle tubazioni dell'impiantistica all'interno già di fuori predisposti negli elementi delle travi cose che negli anni 60 forse e quindi avevamo da poco cominciato la cementificazione quindi erano concetti che portati ad oggi sono del tutto attuali sono attualissimi in Europa c'era già chi comunque cominciava a progettare e a pensare di realizzare abitazioni in acciaio uno di questi era l'architetto Jean Brouet che è stato uno dei precursori dell'iTech suo primo prototipo fu la casa per il weekend cioè una piccola abitazione trasportabile di 3 metri per 3 era solo un prototipo ma già si stava muovendo qualcosa in Europa in Francia un altro suo progetto fu quello della casa tropicale sono stati i progetti commissionati all'epoca approvati dall'esercito francese per le colonie in Africa occidentale e anche qui possiamo vedere che è un'architettura quasi contemporanea perché c'erano già concetti che riguardavano il raffrescamento passivo l'ombreggiamento perché erano presenti già dei frangisole mobili i concetti di adattarsi al clima del luogo con la doppia ventilazione del doppio tetto e anche le paliti erano concepite per schermare altissimo i laggi ultravioletti che erano fatte con forate con filtri colorati di blu da questo poi possiamo passare agli esempi in Europa e nel mondo la casistica è tanta cioè si sta muovendo se si è mosso e si sta muovendo tantissimo in Europa specialmente in Inghilterra questa per esempio è una casa sono degli appartamenti costruiti per gli anziani diciamo una casa di riposo però la particolarità è architettonica concepito come due mezze d'une come quasi tutti gli appartamenti fossero protetti da giardini all'interno della struttura la cosa principale è che la committenza per questo tipo di realizzazione ha richiesto standard molto elevati anche perché logisticamente in questo caso il cantiere era di difficile accesso c'erano la presenza di due linee di metropolitana di sotto delle fondazioni quindi subito è parso ai progettisti la cosa ottimale è quella di realizzare il tutto con il CFS cioè con il call form still da questo ci sono altri prospetti altri possiamo vedere l'interno delle mezze dune con la torre Uovo in fondo relativa agli uffici all'amministrazione di tutto il centro della casa di riposo ha ricevuto parecchi premi è inutile stare qui a delencarli riguardanti sia il tipo di tecnologia utilizzata sia per l'architettura e per i principi di risparmio energetico utilizzati in questo tipo di progetto ancora in Inghilterra lottizzazioni in questo caso non di fatti da grossi nomi dell'architettura ma comunque un'architettura tipica tradizionale inglese anche in questo caso come vedete gruppi che assemblano pezzi fatti fuori sito per una velocità di costruzione impressionante rapportata a quello che riusciamo a fare oggi con le tecniche tradizionali questo invece è un progetto ancora più particolare perché in questo caso la committenza voleva sfruttare al meglio la sliding house cioè la casa che cammina praticamente era una struttura in acciaio rivestita in legno ed è possibile gestire la posizione della casa in base al clima al soleggiamento alla ventilazione quindi la massima possibilità architettonica anche per questo tipo di progetto andiamo anche in Francia dove ci sono state molte realizzazioni si è sperimentato tantissimo in Francia e si realizza ancora tanto questi sono tutti giovani architetti che hanno realizzato case prestando molta attenzione sia al sociale sia al comfort ambientale interno sia alla rapidità di esecuzione di tutta l'opera altre abitazioni sempre realizzate da giovani architetti francesi in questo caso un'architettura più compatta più semplice per arrivare poi anche ai grossi nomi dell'architettura come Jean Nouvel che ha costruito anche lui case con questo tipo di tecnologia a secco in questo caso non vedete lo spessore molto sottile delle pareti rivestite con lamiere ondulate si può spaziare con ogni tipo di materiale sia dai più moderni come quest'altro esempio sempre in Francia vicino a Parigi ad arrivare a quelli più tradizionali sempre in Francia addirittura una casa costruita nella foresta rivestita in legno vista così non potreste mai dire che questa è una casa con struttura in acciaio quindi adattabile a tutti i tipi di progettazione in Germania dove il Colform Steel è ormai una tecnologia di costruzione a secco consolidata ci sono vari esempi di costruzioni monofamiliari o bifamiliari sempre in Germania architettura tipica tradizionale una ricostruzione fedele di una casa tipica tedesca lo stesso anche in Spagna anche qui si stanno muovendo tantissimo potete notare benissimo l'assemblaggio sia anche delle capriate in acciaio velocissimo sia per quanto riguarda tutto il sistema di chiusure perimetrali che partizioni interne per arrivare poi a finiture sempre classiche che rispettano ma comunque la tradizione del luogo arriviamo anche negli Stati Uniti negli Stati Uniti la patria praticamente del del colforum Steel questo è uno dei tanti esempi di di realizzazione di appartamenti di blocchi di appartamenti realizzati in tempi brevissimi per arrivare nel Catar in Abu Dhab che sono tutti i mercati in via di espansione ovviamente hanno bisogno di velocizzare molto nelle costruzioni di realizzare quanto prima possibile queste sono tutte le lottizzazioni tutti appartamenti in Cina quindi nei paesi orientali ci sono esempi di costruzione di alberghi esempi di costruzione di case private o di lottizzazioni ma la cosa più importante in Italia al Lago Patria forse non so se molti di voi conosceranno le forze armate britanniche che hanno commissionato la realizzazione di una scuola dell'infanzia per i figli dei militari e questo è un intervento importante con 3.000 metri quadri di superficie coperta la committenza in questo caso richiedeva degli standard elevati sia per quanto riguarda la singurezza antisismica che per quanto riguarda la sostenibilità e il risparmio energetico chiedo scusa mi stavo dicendo quindi Lago Patria la committenza anche in quel caso aveva bisogno di di un edificio costruito in tempi brevissimi e la tecnologia migliore ovviamente da adottare è stata quella del conforme stile da questo posso continuare così altrimenti da questo capire che comunque il conforme stile è una tecnologia che consente una velocità di esecuzione non indisferente e permette oltre alla struttura la vita di esecuzione della struttura della quale vi parlerà l'ingegnere Contino anche la possibilità di chiudere le partizioni interne ed esterne sempre con un sistema sicco in questo caso l'astre di gessofibra o acquapanel della ferma e di questo ve ne vanno l'ingegnere carbone ma un occhio particolare viene anche dato alla salubrità dell'ambiente questo che vuol dire molti di noi sanno che molti edifici hanno problemi di muffe di batteri ma adottando sistemi di ventilazione meccanica controllata e questo è il caso dell'Aermec sono tutti problemi che vengono risolti con questo tipo di tecnologia utilizzando ma non c'è bisogno diciamo che concludo avrei dovuto concorre con delle immagini di cantieri realizzati ma ve lo farò vedere comunque l'ingegnere Contino entrerà in particolare nella struttura e poi a seguire l'ingegnere carbone e l'ingegnere della palla vi ringrazio dell'attenzione allora andiamo adesso a vedere in dettaglio il sistema di costruzione che noi adottiamo per l'attenzione di queste costruzioni come già anticipato l'architetto ma adesso entriamo un pochetto nel dettaglio il sistema quindi praticamente andiamo a vedere due aspetti fondamentali l'aspetto di tipo strutturale e l'aspetto di tipo energetico cioè il fatto che gli edifici oltre a essere edifici che hanno una importante e oltre una risposta strutturale vengono anche realizzati in maniera tale da avere anche un risparmio energetico di essere edifici ecosostenibili sono due aspetti che vengono colungati proprio per avere edifici di qualità quindi il sistema di costruzione sostanzialmente in cosa consiste vengono utilizzati dei profili allenati a freddo che dai corsi vengono profilati e vengono fuori una serie di elementi a diverse sezioni che vengono praticamente realizzati secondo diciamo della geometria che viene fuori dal campo istrutturale questi elementi poi come vengono assemblati vengono assemblati secondo il sistema platform system che è il sistema che è già venuto utilizzato nell'America nei secoli scorsi per la realizzazione di abitazioni in legno quindi il sistema è pubblicato delle abitazioni in legno poi diciamo questo sistema è un'evoluzione del sistema in legno proprio perché il sistema in legno presentava una serie di problemi quindi poi con l'evoluzione delle macchine e la capacità anche attraverso dei software delle macchine con elevata precisione che è possibile essere profili diverse sezioni è stato possibile quindi realizzare questi edifici non più in legno ma con degli elementi in acciaio quindi vengono assemblati secondo il sistema platform system e poi viene curato l'involcro e la copertura in realtà la vede poi degli edifici con un aspetto di tipo tradizionale adesso andiamo a vedere come questo involcro anche viene poi realizzato quindi praticamente dove è chiesto il sistema si è diffuso dove era necessario avere gli edifici all'elevata resistenza sismica quindi nel Giappone in dei paesi dove poi era necessario avere sostituire gli edifici in legno che presentavano praticamente problemi di durabilità con attacchi di termini per esempio in australi e quindi diciamo si è sostituito il sistema con il sistema in acciaio sostanzialmente quindi nei paesi in Giappone dove c'è un'elevata quindi sismicità praticamente lo sviluppo di questo tipo di edificio ha avuto un effetto di tipo esponenziale vedete qui il confronto che c'è tra i diversi sistemi di costruzione abbiamo il sistema in duratura il legno in cemento armato e poi il sistema CFS che rapportato al peso ha un'enorme resistenza quindi peso basso e enorme resistenza quali sono gli elementi che caratterizzano questo sistema di costruzione sostanzialmente il sistema è un sistema misto quindi acciaio interaiato però lavora a setti tipo lavoratura tradizionale anche se in questo caso è possibile assembrare gli elementi per poter risolvere alcuni problemi che si presentano dal punto che è stato detto cioè quindi rispetto al sistema a setti è un sistema più flessibile per consente in qualche modo di utilizzare elementi misti interaiato a setti quali sono gli elementi che caratterizzano poi per esempio un pannello portante quali sono sono dei montanti in acciaio laminato a fredda sezione C sezione che varia a seconda dei calcoli strutturali e anche ad interassi variabili a seconda del calcoli strutturale ci sono poi una serie di elementi che devono essere curati come per esempio le piatta bande delle finestre o altri elementi di nomi eccetera che devono essere quindi curati per avere poi un edificio che risponda ai requisiti statici e antisistici poi gli isolari vengono realizzati sempre con gli elementi a C quindi dei profili a C che vengono dimensionati secondo cartolo strutturale e le coperture in genere quando è possibile vengono realizzati con dei sistemi intraviati tipo capriati oppure sempre i solai vengono realizzati come solaio inclinato normale quindi con i travetti a sezione a sezione praticamente più relata per a seconda della luce dal punto di vista dell'approccio al calcolo strutturale faccio dei geni giusto per dare degli input su come devono essere quindi calcolati quali sono appunto gli approcci di tipo la calcolo sostanzialmente noi in Italia praticamente dobbiamo utilizzare secondo la nostra normativa che è il DM del 2008 e la Cicola del 2009 facendo poi anche riferimento del codice 3 noi dobbiamo praticamente utilizzare un sistema interiato contro le enti concentrici che viene contemplato dalla normativa noi diciamo come nel caso che siamo andati ad effettuare usiamo addirittura senza vincoli intermedi quindi va a vantaggio di statica però potremmo anche utilizzare con vincoli intermedi mentre l'approccio americano al sistema è un approccio che consente di avere un maggior risparmio anche poi sul materiale perché consente di far lavorare praticamente il pannello di rivestimento di elemento strutturale e quindi noi possiamo dimensionare di meno gli elementi di acciaio e quindi c'è un maggior economia noi però andiamo invece a realizzare questo tipo di approccio che il pannello lo mettiamo con però non lo teniamo in conto nel campo lo va a vantaggio di statica però abbiamo più spregno di materiale però è l'approccio che ci consente in tutti i geni civili di tutta Italia di poter avere l'approvazione diciamo di questo il campo strutturale le unioni degli elementi strutturali come vengono realizzate vengono realizzate attraverso delle vite di autoperforanti cioè delle vite che fanno foro e unione contemporaneamente si presentano sotto questo aspetto e hanno diversa tipologia delle teste a seconda come dell'impiego se non devono fare gli spessori per esempio nel vestimento utilizziamo delle vite piatte dove è necessario un bullone utilizziamo questi bulloni e quindi a secondo dell'approccio per quanto riguarda l'ancoraggio al suo quindi alla platea di fondazione che generalmente viene fatta nella platea di fondazione come fondazione utilizziamo gli ancoraggi meccanici o possiamo fare uso di ancoraggi che lo utilizzano e chimici per questo dipende chiaramente dal tipo di calciestruzione che troviamo se è una platea fatta in un certo modo possiamo utilizzare gli ancoraggi meccanici a seconda le unioni poi quindi gli ancoraggi però non vengono fatti esclusivamente proteggendo l'ancorante e basta ha bisogno di un supporto a seconda della zona e questo viene definito attraverso un accurato campo strutturale quindi secondo delle sollecitazioni che abbiamo nei vari punti noi andiamo ad utilizzare diversi tipi di piastre per esempio questo nodo questa collezione all going che è questo nodo che vedete qua e in queste parte è una piastra che viene utilizzata in alcuni punti dove ci sono sollecitazioni tipo attrazione in altri punti utilizziamo l'unione che è costituita da questo elemento quindi c'è un rafforzo e poi c'è l'ancorante che va in errore qui andiamo di nuovo a mettere a confronto i due sistemi con un sistema dove utilizziamo l'investimento come parte del calcolo quindi della parte strutturata e quello invece utilizziamo noi che utilizziamo controventi concentrici allora in questo caso per noi il limite di rottura è praticamente il distacco tra il pannello e l'elemento in acciaio nel nostro caso invece noi dobbiamo dimensionare affinché non avvenga mai il distacco di questo nodo e quindi questo nodo va potenziato per evitare questo tipo di problema l'aspetto importante siccome parliamo di profilati terminati a freddo profilati a freddo quindi con sezioni sottili che in genere quindi sono sezioni di classe 4 noi dobbiamo andare a dimensionare fare le verifiche secondo i criteri dei sezioni in acciaio classe 4 sezioni in acciaio classe 4 implica una verifica che la nostra normativa di M2008 soprattutto nel circolo 2009 probabilmente nel corso G3 ci consente di verificare come attraverso il passaggio della sezione efficace cioè noi non utilizziamo una sezione piena ma andiamo a calcolare la sezione efficace secondo i criteri che vengono dettagli da Roma B quindi per evitare i problemi cosiddetti di instabilità locale che si possono presentare in questo tipo di profili perché sono molto sottili perché parliamo di profili che vanno dal minimo di 1 a massimo 3 mm di spessore e praticamente cosa succede è che oltre quindi a questo tipo di verifica quindi numerica e teorica che andiamo a fare il sistema di costruzione da noi impiegato che è stato potenziato anche per la nostra zona quindi per il territorio italiano quindi per il territorio italiano viene praticamente curato attraverso l'utilizzo di alcuni elementi di rafforzo per esempio nelle zone in alcune zone per esempio questo qui rappresentato è un travesto di zona dove al noto devono andare ad inserire un altro elemento un elemento di eroggiudimento proprio per evitare un tipo di fenomeno di questo tipo in alcuni casi per esempio devono essere utilizzate delle del tipo di travi reticolari particolari per poter superare delle luci di notevole entità quindi la normativa di riferimento sostanzialmente noi abbiamo già presentato questo tipo di edifici in varie parti d'Italia e il DM 2008 quindi dei freddo che cosa c'è in 2008 e la G4 nel 2008 che è già l'europegica e poi l'aeroggi 3 la nostra normativa ci consente di utilizzare dove non è possibile dove non è descritta bene nella G4 possiamo fare un elemento all'aeroggi 3 mentre per quanto riguarda poi ci sono una serie di normative tra cui quella più importante è la normativa AIS che è la normativa diciamo americana sostanzialmente noi anche per la nostra norma al capitolo 11 delle norme tecniche delle costruzioni di M8 dobbiamo eseguire il laboratorio il centro di trasformazione quindi la fabbrica dove vengono lavorati i profili deve darci una serie di elementi e deve quindi fare una serie di prove come la prova per esempio a trazione su bandelli private da COS e alcune prove dopo la profilatura per le varie sezioni per ogni spessore di profilo piegato e che cosa deve rilasciare oggi prima poteva rilasciare questo secondo il capitolo 11 delle note tecniche oggi dal 1 luglio 2014 deve dare comunque la certificazione CE per i profili che praticamente va a produrre quindi diciamo per poter realizzare questo edificio è importante una procedezione accurata in sostanza cosa viene fatto da noi noi acquisito il progetto architettonico che può essere un progetto concepito anche per altri tipi di strutture per altri tipi di cemento ammato più un altro noi sotto il progetto architettonico riusciamo a tirare fuori sia la parte strutturale quindi il tablo strutturale e poi l'ingegnerizzazione degli elementi in maniera tale è da poter trarre fuori una serie di elementi che servono sia per la produzione in fabbrica sia poi per la realizzazione in cantiere questo che vedete è un camion dove qui sopra è contenuta un'intera abitazione che poi viene scaricata sul posto e viene poi assemblata sul posto per poi praticamente essere eletta quindi il cantiere si può presentare in due modi o portiamo tutti gli elementi attraverso il camion in cantiere e poi lì vengono assemblati oppure possiamo fare un pre-assemblaggio in altra zona e poi realizzare gli elementi in cantiere questo è una seconda poi di come si presentano le varie cose le difficoltà quindi giusto per fare un primo un primo riassunto di quali sono i vantaggi di questo sistema di produzione possiamo dire che la leggerezza che è un edificio di questo tipo va a pesare 12-16 volti meno rispetto allo stesso edificio in per esempio in muratura e in alternato un rendimento strutturale che abbiamo già detto prima davanti al rapporto resistenza peso la qualità della produzione perché c'è una produzione industriale quindi nessun errore in cantiere gli elementi sono numerati non ci possono essere errori in cantiere e quindi diciamo delle proprie vani la flessibilità qualunque sezione necessità uno la possiamo realizzare il vantaggio delle costruzioni a secco che poi verranno bene le cariche dall'ingegner carbone che sono che hanno una serie di vantaggi la semplicazione nell'isolazione degli impianti quindi si possono creare dei fori per far passare gli impianti e quindi non creare tutte quelle problematiche che abbiamo con il sistema relazionale la rincitabilità del materiale che diciamo si fa un conteggio siccome i profili la natura fredda sono reciclabili e questo è un accumulamento pure importante la durabilità questi sono profili a freddo che vengono praticamente realizzati dalla miere zintate a caldo quindi sono protetti dalla corrosione e hanno i vantaggi rispetto ad altri elementi perché sono protetti la progettazione accurata dell'involgono cioè uno quindi dei vantaggi che ci proietta verso il problematiche inerente di lo strano energico è quella di poter progettare l'involgono come si vuole perché possiamo stratificare e noi andiamo a costruire la nostra parete a seconda di come ci necessita per la zona climatica di riferimento quindi oppure se vogliamo raggiungere un parametro specifico per la nostra involgono possiamo progettare a seconda perché possiamo stratificare l'amaretto infatti praticamente questo vantaggio ci proietta verso il concetto degli spagni energeti quindi per poter realizzare i vici in fase a più e poi quindi diciamo in fase a più che poi non dipende solo dall'incontro ma che dipende poi dalla possibilità di utilizzare altri tipi di impianti per poter raggiungere appunto la base a più secondo la nostra normativa qui riporto praticamente un esempio per esempio di copertura come potrebbe essere realizzata ma possiamo realizzare di valvipo come sapete qui abbiamo quella più classica in cui nel solaio diciamo inquinato in acciaio noi poniamo un pannello in legno della parte superiore poi un freno a vapore in questa parte poi l'isolante lo spessore che ci occorre per esempio i centimetri in questo caso è utilizzato poi creiamo doppio di stellatura ovviamente prima il teo traspirante permeabile doppio di stellatura e poi andiamo a mettere le teole nella parte inferiore mettiamo un foglio di fibrogesso cartongesso per più della parte interna e questo è un esempio di un tipo di copertura che abbiamo utilizzato che è una trasmittanza di 0,2,18 le pareti per esempio possiamo utilizzare vari tipi tra cui quelle diciamo che noi utilizziamo sono al sistema con una parete tipo cappotto quindi ci sono gli elementi in c'è la parete in c'è con questi elementi in acciaio poi dalla parte esterna andiamo a fare un sistema a cappotto quindi che può essere fatto da le rocce nel ps e viene poi rasato nella parte interna mettiamo ancora il materiale isolante e poi all'interno andiamo a mettere il fibrogesso può essere fatta anche una parete di tipo per ventilato questo quando ci occorre per esempio nelle zone climatiche dove c'è il problema del caldo oppure quando vogliamo realizzare una macciata di breggio per esempio utilizzando zinco titanio e quant'altro noi realizziamo questo tipo di parete su questi elementi possiamo andare ad ancorare quello che vogliamo oppure possiamo andare a mettere il pannello in gesso in ciamento per esempio l'H2O della ferme che farà vedere il collega che praticamente può essere rasato e l'aspetto è quello della casa si fanno pure le bocchette per la presa d'aria e quindi viene la parete vezzata adesso vado a riportare diciamo vari esempi di abitazioni realmente realizzate in Italia che noi abbiamo realizzato in Italia e per esempio riporto sempre questa piccola diciamo realizzazione che era una ricostruzione dopo l'emoluzione di una fabbricata per il mare in legno che è stato demolito e ricostruito interamente con il sistema in acciaio questo è dal 2010 realizzato ed è un edificio autosufficiente si può dire perché non necessita nessun elemento aggiuntivo per il stradamento e l'apprescamento ed è stato realizzato vedete quindi quello che prima abbiamo descritto in maniera teorica lo vedete qui dalla parte interna viene un'estrada di loccia dall'esterno viene un'estrada di loccia e poi viene fatto il vestimento stessa cosa vedete il tetto di copertura e questo poi è l'aspetto che ancora deve essere diciamo tratturato esternamente non è mai stato tratturato perché non l'ha mai potuto tratturare però si mantiene in maniera altra esempio un'abitazione per esempio in i 250 metri quadrati una villa è stata realizzata in chiave in mano in tre mesi le strutture sono state realizzate in 12 giorni lavorativi in tutta la struttura e questa qui vedete la parte di cantiere dove vedete quindi gli elementi che sono arrivati in cantiere poi sono stati assembrati per poter realizzare tutta la struttura vedete quindi qua il passaggio degli impianti come attraverso dei fori viene il passaggio degli impianti senza nessuna rottura quindi qui è stato fatto il sistema a capotto quindi dopo aver messo il pannello esterno in USB è stata messa 8 cm di lana di roccia per capotto ed è stato utilizzato vedete l'aspetto di quello frazionale questo è l'aspetto dell'anticio anche dall'interno di roccia anche i solai devono essere realizzati in un certo modo in questo caso è stato dopo gli elementi l'acciaio viene messo il pannello di 3 cm in multistrato marino sul quale in questo caso è stato messo un anticarpestio di 4 cm di roccia pressata all'alta densità poi è stato messo praticamente un terro impermeabile la rete e poi un getto in materiale alleggerito e poi sul quale è stato messo un poverimento normale questo per fare un aspetto molla e quindi evitare problemi legati all'anticarpestio al rumore di anticarpestio vedete anche all'interno all'interno come viene messo poi prima di chiudere in cartongesso il freno a vapore per regolarizzare il concetto della condensa e quindi la verifica con l'intergramma di laser qui si vede proprio l'aspetto interno in costruzione che poi di un edificio tradizionale su questo edificio sono stati posizionati salati 6 kilowatt di pannello fotovoltaici e il GSE in questo caso il fatto che l'edificio era in classe A dava il premio e in questo edificio glielo ha dato e del 30% in più sull'incentivo e quindi praticamente in questa casa sostanzialmente è una casa autosufficiente perché al di là di quello dell'aspetto normativo che viene certificata in classe A però nella realtà praticamente alla fine si copre tutto l'elettrico perché è stata messa anche la pompa di colore elettrica e tutto quanto alla fine dell'anno il cliente specialmente non ha nessun cost anzi ha ancora delle economie legate all'incentivo statato del GSE quindi qua si vede l'impianto è un impianto praticamente di pompa di calore elettrica con gli split caldo-freddo siamo in una zona climatica C quindi era stato un possibile quindi si era pensato di utilizzare questo tipo di impianto perché funzionava bene per questo tipo di zona climatica gli infissi sono stati realizzati in questa abitazione ma è quello che noi in genere consigliamo di fare in PPC chiaramente con delle caratteristiche che sono legate poi ai parametri e ai limiti di tipo normativo altra abitazione questa qui ha tre livelli ed è l'unico edificio con questo sistema realizzato in Italia a tre livelli ed è a Giarre in provincia di Catania questo è sempre un edificio in classe A più che è stata realizzata la struttura in tre di giorni lavorativi vedete questo quindi c'è uno scannafosso in cemento armato e poi praticamente la piano terra sia sulla protea in cemento armato sia l'edificio in questo caso si è andato ad utilizzare la parete ventilata quindi trasmittanza termica 0,17 e praticamente altro parametro importante vedete è la trasmittanza termica periodica 0,07 il limite è 0,12 per la parete questo perché? perché per i edifici leggeri non è diciamo semplice avere un enorme sfasamento però la norma dice che il parametro diciamo di riferimento per i edifici leggeri è la trasmittanza che termica periodica e ve ne approssima il comportamento nel regime estivo queste sono le fasi del cantiere e il jarre quindi il tano arriva la mattina presto già praticamente verso le 9-10 già abbiamo eretto quasi il pianeta non sostanzialmente quindi siamo qui all'appendice dell'Ettina e quindi praticamente noi in 12 giorni compreso praticamente in prevista eccetera abbiamo eretto tutta la struttura altra applicazione che è un'applicazione importante questo è un esempio una delle applicazioni importanti è nelle sopravlevazioni soprattutto adesso con la nuova norma del Dm 2008 abbiamo molte volte il problema delle sopravlevazioni perché non riusciamo a far verificare l'edificio per una sopravvazione molte volte quindi rinunciamo alla sopravvazione in questo caso noi siccome abbiamo dei pezzi che sono anche 10 volte inferiori noi riusciamo a far verificare l'edificio per esempio qui in questo caso questo edificio in muratura generalmente importante dalle modellazioni strutturali ci siamo accorti che neanche si è accorto che ci sia stata fatta l'edificio non si è accorto di questi pezzi talmente diciamo erano irrelevanti e qui vedete senza invadere niente abbiamo chiuso questa veranda questo post che era una cosa aperta è stata chiusa definitivamente si è creato un ambiente di 60 metri quadrati è una cosa molto piccola l'altra applicazione per esempio un borgo questo qui a Petrocida è praticamente una parte di questo gruppo di abitazione è stato realizzato con questo sistema di condizioni vedete le fasi di realizzazione in questo caso si è fatto il sistema H8 e un tetto piano l'applicazione è questa qui molto importante è un'abitazione di 350 metri quadrati dove si può vedere come anche a livello di architettura possiamo praticamente spaziare e questa è un'abitazione in classe A più che ha riguardato praticamente la realizzazione su uno versante di una zona di completamento di un paese di montagna questo è l'aspetto di un tipo architettone dove praticamente da una piccola abitazione che era i clienti erano affezionati di un tipo storico che esisteva nel loro terreno poi da questo si è partito per fare tutto il progetto e anche se è dovuto era una zona di non faccio l'accesso quindi anche per questo diciamo il sistema c'è venuto incontro perché ha semplificato la realizzazione tant'è che anche le opere di contenimento sono state realizzate in terra armata utilizzando la terra di scavo del porto senza quindi dover trasportare cemento e quant'altro questa è la platea di fondazione questa platea di fondazione che sta fatta con doppia maglia e più 14 ogni 25 cm è una cosa molto semplice che ha riguardato tutta la 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 e questo è l'aspetto quindi del fasi di costruzione di questo edificio e qui anche la scala si è realizzata in stil qui questa praticamente la scala poi è stata portata alla parte delle capriate del tetto quindi la scala sospesa del tetto qui praticamente i parametri sono 0 per la parete e anche per la copertura quindi questa è realizzata la parete di tipo ventilato e vedete quindi le fasi di lavorazione quindi la liroccia gli elementi di supporto e poi il pannello ecco una cosa importante che questo riguarda un aspetto importante per esempio la cura dei nodi che facciamo con questo tipo di edificio ma bisogna fare sempre perché perché una parte vulnerabile è la parte di attacco tra l'infisso e la struttura e quindi noi abbiamo ideato questo tipo di blocco che è praticamente certificato che consente di chiudere questo elemento e poi già con la rete e poi va ad ancorarsi all'elemento di l'estimento esterno e si va ad arrasare tutto l'elemento vedete qui come viene e quindi va a fare sia risolvere il problema sia del ponte termico all'attacco sia poi del cassonetto questo è diciamo un edificio nella fase di realizzazione quindi l'aspetto poi è l'aspetto tradizionale e qui la cosa importante è anche il tetto è stato realizzato un tetto con tegola canadese quindi un tetto di tipo ventilato con la camera di ventilazione quindi oltre a utilizzare quindi la dopo il pannello quindi nel legno si è messa le sparte doppia riseratura altro pannello in muzzetto marino guaina e poi la 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 quindi la ventilazione camera di ventilazione con i colmi questi qua sono questo è il colmo e vedete qui quindi sono stati utilizzati questi colmi proprio per migliorare la ventilazione questa è un'altra applicazione un piano casa e un ampliamento sostanzialmente di un edificio quindi queste sono le fasi di attenzione della proteina quindi le fasi di cantiere fasi di cantiere e quindi anche qui sono utilizzate la parete ventilata e tetto in tegola canadese ventilato di guaina tegola quindi la dirocito più esteratura pannello guai tegola questa è la parte sottostante del tetto altra applicazione in provincia di Bologna c'è 80 metri quadrati 9 giorni lavorativi della struttura e queste sono le fasi di cantiere e qui praticamente il tetto è stato realizzato secondo l'architettura del posto e quindi il tetto semplice con solo la dirocito di respiratura e le regole quello che abbiamo descritto nella prima parte questa è l'altra applicazione che si possono fare anche l'analizzazione di un tetto con degli albaini su un edificio esistente praticamente in muratura si è andata a realizzare questo tetto e qui si è sfruttato un altro concetto importante cioè la capriata può essere cava all'interno in maniera tale che io faccio il tetto e inoltre mi ricavo di spazi all'interno quindi sono realizzate stecabriate praticamente all'interno in conclusione diciamo diciamo che in questo sistema in conforme stile possiamo realizzare la protezione di sismo resistente risparmio energetico con un confort abitativo ecosostenibili e economiche pur mantenendo un'elevata libertà progettuale questa è una cosa importante le prestazioni energetiche di confort acustico e di resistenza al fuoco possono essere in senso raggiunti attraverso l'obstituzione accurata dell'inforzo con l'uso di materiali adeguati perché quindi noi possiamo scegliere materiali con l'obbiato ho finito abbiamo visto con l'architetto Pogliese quello che è diciamo l'evoluzione di questo sistema da dove parte dove è tutto quello che possiamo arrivare poi con l'ingegnere Condito abbiamo visto dal punto di vista strutturale cosa si riesce a fare cioè in pratica quello che è emerso è che è un sistema che non ha grossi limiti cioè nel senso che si può realizzare dal punto di vista architettonico tutto in tempi rapidissimi e si parla di prestazioni elevate io vi mostrerò come come praticamente poter ottenere con un sistema a secco delle pareti e gli spessori ridotti ad altissime prestazioni sia dal punto di vista gustico che dal punto di vista termico infatti noi ci occupiamo di produrre delle lastre quindi che vengono utilizzate come sistema costruttivo come sistema costruttivo a secco l'azienda si chiama Fermacell fa parte di un gruppo abbastanza grande che si chiama Axella la Axella è un'azienda tedesca dove all'interno ci sono diversi macchi tra cui il più conosciuto molto probabilmente è quello della Itong che fa blocchi di calcio struzzo cellulare all'interno di questo gruppo Fermacell si occupa di produrre lastre in cemento e lastre in gesso fibra gli stabilimenti di produzione sono tutti quanti in Germania noi abbiamo tre stabilimenti di produzione di lastre in fibra e gesso in Germania e uno di cemento quindi il materiale viene prodotto in Germania e poi trasportato direttamente nei siti diciamo di stoccaggio oppure oppure presso i cantieri che cosa si riesce a fare con i nostri sistemi in pratica si riesce un po' a coprire tutti quegli elementi che abbiamo visto cioè hanno mostrato delle pareti oppure lo scheletro di una parete oppure di un solaio e quindi praticamente noi riusciamo a coprire sia dall'esterno che dall'interno questi elementi creando diciamo delle compartimentazioni che possono essere ad alte prestazioni acustiche e prestazioni termiche le lastre in gesso fibra sono lastre costituite dall'80% di gesso e del 20% di cellulosa che viene ricavata da carta di giornale riciclata e da un peso abbastanza elevato cioè pensate a parità di spessore col cartongesso una lastra di gesso fibra pesa il doppio e il fatto che ha questa densità così elevata dà dei vantaggi e dei benefici le lastre di cemento che vengono posizionate prevalentemente all'esterno sono in pratica costituite da una matrice in cemento sono alleggerite con argita e spazza vedete questi elementi neri in pratica sono dell'argita e spazza e poi ci sono due reti in fibra di retro all'interno che le rinforzano con le stesse lastre un gesso fibra o in cemento noi andiamo a realizzare dei pacchetti che poi utilizziamo per il sottofondo cioè noi riusciamo a realizzare anche il sottofondo completamente a secco ovviamente quando si parla di struttura a secco significa struttura in cui nella fase di applicazione non si utilizza acqua quindi semplicemente c'è un assemblaggio dei diversi elementi il fatto che non si utilizza acqua fa sì che praticamente non ci siano tempi di maturazione quindi di conseguenza il sistema nel momento in cui vado a posizionare è finito ci sono altre lastre che noi produciamo che vengono invece utilizzate come sistemi antifuoco e quindi per utilizzare in termini ospedali clifiche oppure scuole laddove ce ne è necessità come vi dicevo il gesso fibra è un materiale ecologico perché è costituito fondamentalmente da due elementi naturali anzi da tre elementi naturali che è l'acqua il gesso e la cellulosa ricavata dalla carta il fatto che sia un materiale diciamo bioedile e quindi ecologico è stato accertato da diversi organismi a livello europeo quindi praticamente dall'IPR dall'Eco Institute nonché ultimamente dal Sentinel House e anche dal da questo simbolino qua che è un diciamo praticamente un ente certificatore francese che vada a testare che il materiale che viene prodotto e quindi utilizzato all'interno diciamo praticamente dell'abitazione è un materiale ad emissioni in zero quindi non ci sono elementi nocivi che vengono che viene spregionato da questo materiale è un materiale diverso dal tradizionale sistema secco che tutti quanti voi conoscete in genere si identifica il sistema secco con il cartongesso il gesso fibra è un materiale è un materiale diverso è diverso per quanto riguarda diciamo la conformazione quindi una pasta unica di gesso eccelodosa ma è diverso anche per per quanto riguarda i pesi perché praticamente come vi dicevo in precedenza stiamo confrontando un materiale che ha una densità di circa 1200 kg al metro cubo rispetto ad un cartongesso che in genere ne fa 650 kg 650 kg al metro cubo che cosa che cosa implica questa densità questo peso in più implica che dal punto di vista ad esempio acustico si ha un comportamento nettamente migliore perché l'acustica è regolata da un meccanismo che viene definito massa con la massa cioè l'onda sonora per essere abbattuta impatta una prima una prima massa in questo caso costituita praticamente dalla lastra poi viene smorzata da una molla in genere una molla è identificata come un materassino isolante in lana minerale quindi che può essere fibra di legno oppure può essere lama di roccia oppure lama di vetro e poi praticamente occorre l'altra massa per smorzare l'altra parte dell'onda sonora ovviamente questo meccanismo tanto funziona quando si hanno due masse di densità elevate nelle parti estreme è una molla di densità molto molto bassa infatti se torno indietro e vado più o meno a confrontare quello che è il comportamento acustico diciamo di un tramezzo costituito in gesso fibra costituito da un montante da 75 mm con una singola lastra da 13 e materassino isolante in lana di roccia di 40 kg a metro cubo rispetto praticamente ad un tradizionale blocco quindi un forato da auto intorno per destra a sinistra oppure l'equivalente sistema costituito da cartongesso si può vedere come nel caso del gesso fibra l'incremento del potere fuori isolante sia nettamente superiore infatti si passa da un valore di 42 decibel ad un valore di 54 decibel attenzione che i decibel vengono valutati su una rittmica quindi avere un incremento di un decibel significa migliorare la prestazione anche di 10-20 volte questo perché come vi dicevo riesce a sfruttare meglio questo tipo di meccanismo questo fa sì che in 100 mm quindi in travezzo classico riusciamo ad ottenere delle prestazioni che sono molto al di sopra di quelle che sono diciamo previste da normativa cioè praticamente in 100 mm in 10 cm riusciamo a fare un travezzo di 50 kg che abbatte 54 decibel addirittura aumentando il numero delle lastre quindi passando da una singola lastra ad una doppia lastra si passa a 62 decibel e quindi praticamente dei valori elevati la stessa cosa per quanto riguarda la prestazione al fuoco cioè pensate che questa è una parete che fa EI-60 per quanto riguarda diciamo praticamente la prestazione all'ermeticità e all'esoramento una parete di questo tipo praticamente viene definita EI-120 proprio perché praticamente si sfrutta il fatto di avere delle masse delle lastre con una densità elevata nella parte estrema di un montante di un profilo da cartone addirittura esistono delle stratigrafie che spesso noi utilizziamo come divisori o tra unità abitative oppure come divisori all'interno di una camera d'albergo che in 180 mm riescono anche ad abbattere circa 65 decibel e questo avviene anche in presenza di scatole elettriche cioè le prove vengono realizzate all'interno di un laboratorio andando proprio a simulare quello che potrebbe essere la parete compreso l'applicazione della parte impiantistica questo è diciamo praticamente più che un tramezzo un divisorio ad alte prestazioni che se confrontato con quelli tradizionali riesce ad avere praticamente un incremento in decibel intorno ai 20 pur avendo uno spessore ridotto quando si parla di sistema sicco ovviamente come ci mostrava l'architetto l'architetto Cugliese non è che ci stiamo inventando di noi chissà cosa nel senso che praticamente già i greci costruivano senza l'utilizzo di acqua costruivano a secco così praticamente come in Puglia tutto l'alto piano Cugliese della morte è costituito da quelle caratteristiche abitazioni che sono etrulli che sono delle strutture a secco quindi fondamentalmente al di là degli ultimi cento anni in cui si è utilizzata prevalentemente acqua all'interno della costruzione il sistema a secco è stato sempre utilizzato nel corso della storia quindi fondamentalmente non ci stiamo inventando niente nel senso che è un sistema a quanto voluto e sicuramente non nuovo il fatto di costruire a secco così come dicevano i colleghi che hanno parlato prima di me da dei vantaggi notevoli nel senso in una costruzione nuova si parlava praticamente di alzare una costruzione in 11 giorni e portarla al termine dopo 3 mesi mi sembra quasi fantascienza ma in realtà è così perché non essendoci acqua non c'è niente che va a maturazione quindi di conseguenza non ci sono tempi che uno deve aspettare costruire a secco significa utilizzare dei materiali ovviamente che oggi vengono prodotti con una certa tecnologia e quindi di conseguenza questi materiali fanno sì che le prestazioni dal punto di vista energetico siano elevate quindi praticamente quando si va ad assemblare oppure a fare un pacchetto costituito da lastre in gesto fibra di alta densità con degli isolanti e oggi ce ne sono diversi di alte e di bassa densità si riesce a raggiungere gli spessori più idiotissimi delle prestazioni notevoli e quindi si parla di 0,16 di 0,17 di trasmittanza di sfasamenti che vanno all'incirco 8 sulle 8 o 9 con delle trasmittanze termiche periodiche bassissime e poi questi sistemi fatti a layer a pannelli danno anche delle prestazioni a fuoco che il tradizionale non può dare ovviamente questo si repercuote anche nella ristrutturazione cioè questo lo vediamo anche nelle eventuali sopravvivazioni oppure praticamente nelle ristrutturazioni utilizzando il sistema a secco abbatte notevolmente i tempi dal punto di vista dei costi io più o meno qua vado a fare un diciamo un confronto di quelle che sono le strutture diciamo tradizionali con un sistema a secco cioè vedete pur avendo delle prestazioni nettamente superiori nel senso che praticamente si vado a confrontare trasmittanza isolamento cultico tempi di realizzazione il sistema a secco è sempre diciamo ha un par di vantaggi non ultimo dal punto di vista dei costi cioè praticamente se un tradizionale costa 1 parametrizzando quello che potrebbe essere il costo dei materiali più la mano d'opera un sistema a secco costa 1,05 quindi non è che stiamo dicendo che costa il doppio oppure tre volte tanto ma più o meno quello è il costo quindi in tempi ridotti con un costo uguale io riesco ad ottenere delle abitazioni che hanno delle prestazioni più elevate e questo si traduce anche in quello che potrebbe essere il ritorno di investimento cioè pensate che questo è un intervento pubblico iniziato praticamente in 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 nel febbraio del 2008 nel febbraio del 2009 le persone stavano all'interno e lavoravano nella parte interna quindi dal punto di vista praticamente del ritorno dell'investimento è molto molto più è molto più veloce quindi di conseguenza più proficuo come abbiamo visto con i colleghi precedenti spesso il sistema a secco viene identificato come un sistema prefabbricato cioè quindi io vado ad assemblare in officina quello che potrebbe essere anche la parete e spesso lo si fa e poi praticamente il montaggio viene eseguito il cantiere viene visto come un un luogo dove rimontare gli elementi che io ho progettato in maniera adeguata e ho realizzato e ho realizzato e ho realizzato prima ci sono diversi esempi in Italia mi che l'ha fatto vedere gran parte delle vide costruite in Calabria anche alcune praticamente in Campania in Emilia Romagna ma di esempi di strutture a secco realizzate in pochissimo in pochissimo tempo ce ne sono veramente tante vedete questa è una scura che noi abbiamo realizzato a Parma anche in questo caso si parla di altissima efficienza dal punto di vista acustico e dal punto di vista termico e anche in questo caso praticamente il tempo di costruzione si è girato intorno ai 6-7 mesi perché è così in basso? perché praticamente è facilitato anche la parte relativa agli impianti cioè nel senso che se vi mostro praticamente questa immagine sempre questa queste sono delle residenze universitarie che noi abbiamo costruito all'Aquila sempre più o meno con la stessa tecnologia quindi in parte sistema prefabbricato assemblato in cantiere addirittura vedete qua in questi casi ci sono i bagni prefabbricati proprio con tutto quello che è l'accessoristica all'interno del bagno che viene realizzato in cantiere e poi posizionato viene realizzato in officine e assemblato in cantiere dal punto di vista impiantistico non è come nel sistema tradizionale dove io prima devo andare a realizzare il compagno oppure il tramezzo poi devo fare praticamente lo scasso e poi ci devo andare a fare l'impianto in questo caso la parte impiantistica va è un diciamo è un elemento della costruzione cioè io faccio gli impianti mentre sto realizzando le pareti infatti vedete questi sono degli esempi di impianti all'interno di una parete in verticale quindi io prima realizzo praticamente la struttura metallica poi chiudo da un lato ci faccio passare praticamente tutti quelli che sono i miei corrugati per l'impianto elettrico e poi metto isolante e chiudo l'altra faccia quindi non è che vado a realizzare prima la parete poi la devo rompere per poi ripristinare lo stesso per quanto riguarda diciamo il riscaldamento al pavimento vedete praticamente viene inglobato nel pacchetto che è il pacchetto del sottofondo cioè in pratica metto il materiale isolante dopodiché vado a posizionare quello che è il pacchetto di riscaldamento al pavimento sopra ci vado a mettere una lastra e poi vado a fare vado a realizzare diciamo quello che è la pavimentazione sottofondo a circo come viene realizzato molto banalmente si parte dalla caldana quindi praticamente dal solaio che può essere un solaio lato lo cemento che può essere un solaio in acciaio oppure un solaio di una struttura in legno su questo piano si va a posizionare del livellante granulare che contiene i sacchi dai 50 litri i sacchi vengono in pratica svuotati e vengono staggiati a secco senza l'utilizzo di acqua praticamente con delle stagge come tirare fondamentalmente un sabbione dopodiché una volta che io ho livellato questo materiale sulla superficie viene posizionata una lastra che è di dimensione un metro e mezzo per mezzo metro le lastre vengono incollate tra di loro con un polipetano e poi vengono avvitate nel momento in cui io ho incollato ed avvitato le lastre ho finito il sottofondo quindi praticamente questa superficie che può essere piastrellata oppure posso andare a posizionare il parquet cioè non c'è bisogno di aspettare alcun che cioè non deve asciugare praticamente niente i vantaggi quali sono ovviamente di ripeto sulla rapidità ma anche che non ci sarà mai presenza di umilità di risalita cioè pensate nell'applicazione di un parquet spesso ci hanno dei dubbi quando devo andare a posizionarlo dopo aver fatto il massetto perché ci potrebbe essere praticamente dell'acqua che risale in questo caso non essendoci acqua ovviamente non avrò mai questo tipo di problematica l'altro vantaggio che essendo un sistema costituito fondamentalmente da un livellante granulare e una lastra che ha il taglio di fabbrica quindi fondamentalmente come dimensione perfetta io avrò una superficie perfettamente perfettamente planale quindi chi viene dopo a posizionare il parquet oppure le piastrelle si troverà praticamente con questo tavolato perfettamente perfettamente dritto la stessa è identica cosa quando vado a posizionare lo scalamento a pavimento cioè nel senso che avendo posizionato questa sabbia dopo metto quello che diciamo l'EPS dove all'interno vengono contenute tutte queste questi dubbicini e poi sopra semplicemente ci vado a posizionare la lastra notate sia che in questo caso come diciamo praticamente nell'applicazione precedente addirittura si vanno a curare tutti quelli che sono i particolari sia per quanto riguarda l'angustica che per quanto riguarda la termica cioè nel senso in questo caso io sto allora a posizionare un elemento che può essere realizzato che è una striscetta in EPS oppure può essere realizzato in materiale fibroso che mi va ad isolare acusticamente i due elementi quindi ho una sorta di taglio acustico e di taglio acustico e di taglio termico tra praticamente i due elementi contigui ci sono degli esempi anche realizzati nelle nostre zone pensate questo praticamente è una struttura diciamo tradizionale di cinque piani praticamente uno scheletro di diciamo praticamente di trani e pilastri in questo caso il convittente aveva ha deciso di chiuderlo completamente a secco allora in questo caso qualcosa abbiamo fatto vabbè oltre a proteggere tutti gli elementi strutturali per evitare la creazione del ponte termico con dei materiali plastici abbiamo realizzato delle strutture in acciaio quindi praticamente dei profitti in acciaio dove all'interno ci sono degli isolanti e poi ci sono tre strati costituiti da lastre all'esterno una lastra di cemento è quella che vi ho mostrato sulla quale poi viene fatta semplicemente una rasatura una rasatura armata nella parte diciamo praticamente interventi viene posizionata una lastra con la barriera a vapore una lastra di fissofibra con la barriera a vapore e nella parte diciamo dell'abitazione interna viene posizionata una lastra in gessofibra anche in questo caso praticamente si parla di quest'azione elevatissime perché abbiamo delle trasmittanze intorno ai 0-015 una cosa del genere con uno sfasamento che andava oltre le 9 ore e mezza con dei tempi diciamo praticamente di realizzazione del fabbricato bassissime questo è un altro intervento che è stato eseguito a legge l'università del Salento in questo caso diciamo il nostro apporto è arrivato per correggere una struttura che fondamentalmente è una struttura nuova ma che non rispettava i limiti di legge per quanto riguarda la parte sia termica che acustica in pratica questa è una struttura è stata realizzata una struttura con dei blocchi in laterizio però poi si sono accorti che dovendo essere che siccome una struttura complica non bastava allora che cosa hanno pensato di fare? hanno pensato di applicare un isolante all'esterno in questo caso anche in questo caso con l'ana di roccia e poi praticamente creare una parete ventilata noi siamo intervenuti nell'applicazione esclusivamente della lastra per esterne che è una lastra come vi dicevo una lastra in cemento che è costituita da una matrice di cemento che è alleggerita con venere in fibra di vetro come vengono applicate queste lastra in cemento? baralmente si va a posizionare la sottostruttura in genere il passo della sottostruttura è di 40 cm oppure 60 cm a seconda diciamo praticamente della pressione del vento e poi praticamente a questa sottostruttura viene abitata la lastra c'è tutto un sistema di impermeabilizzazione delle lastre nel senso che praticamente una volta posizionate le lastre nella parte centrale si va a posizionare una retina in fibra di vetro e questa retina viene poi sigillata con una guaina liquida fatto questo una volta che praticamente ho sigillato tutti i giunti va fatta dalla sottostruttura armata sopra dalla sottostruttura armata semplicemente o si va sotto un tonachino o si va a pitturare le pitture sinossaliche quindi un intervento un intervento veloce per migliorare la prestazione termica dell'edificio stiamo gestendo qualche cantiera abbastanza grossa anche qua in zona questo è a Fratte c'è praticamente provincia di Salerno praticamente si vede questo cantiere si vede anche dall'autostrada questo è un intervento abbastanza prestigioso perché l'architetto diciamo che ha progettato il tutto è Fuxas sono in circa 90 appartamenti e in questo caso all'interno è stato utilizzato tutto il gesso fibra cioè praticamente tutti i divisori tra le diverse unità abitative nonché praticamente tutti i divisori all'interno della stessa unità abitativa sono realizzati con 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 gesso fibra anche ovviamente il topagno esterno è stato progettato utilizzando una controparete nella parte interna del gesso fibra per migliorare sia la prestazione acustica che la prestazione dal punto di vista termico poi ovviamente si fanno anche degli interventi molto piccoli abbastanza complessi di riqualificazione energetica qua in pratica si era una passeria a Lecce dal punto di vista termico era difficile trovare una soluzione perché in pratica le curatore perimetrali diciamo praticamente non riuscivano a dare delle prestazioni adeguate allora in questo caso con l'architetto si è studiato tutto un sistema costituito da pannelli termoriflettenti per isolare questa muratura e poi sui quali sta applicata una controparete in gesso fibra su questo ovviamente non mi di lungo perché gran parte dei miei colleghi che hanno parlato prima di me hanno detto più o meno quasi tutto è evidente che in questo caso il sistema secco è fondamentale cioè nel senso che io costruisco una struttura una struttura leggera altamente prestazionale dal punto di vista di naposismico che posso rendere altrettanto prestazionale acusticamente e termicamente scegliendo la giusta combinazione di lastre e quindi di isolanti spesso quello che viene fatto in questo caso è rivestire all'esterno con una lastra in cemento che poi viene rasata oppure in alternativa fare una parete ventilata poi posizionare in maniera intermedia una lastra con la barriera a vapore e nella parte interna invece posizionare una lastra fatta con una lastra in gesso fibra normale pensate un'applicazione di questo tipo semplicemente in 27 cm riesce a dare delle prestazioni che sono delle prestazioni veramente è veramente notevole mi ripeto 0,16 per quanto riguarda la trasmittanza con delle trasmittanze termiche periodiche intorno a 0,05 io ho finito con la presentazione se ci sono delle domande oppure dei dubbi sono l'ingegnere della paura io seguo a livello di servizio tecnico commerciale l'area centro-sud per quanto riguarda appunto ARMEC penso che un po' tutti conosciate ARMEC è un'attenda produttrice sostanzialmente dei prodotti per ricondizionamento a partire dai 25 vettori alle bombe di calore da piccola potenza fino a grande potenza e tra i prodotti a catalogo ci sono anche i sistemi di ventilazione meccanica controllata di cui vi parlerò oggi e anche sistemi di espansione diretta sostanzialmente la ventilazione meccanica controllata è ormai di fondamentale e di importanza soprattutto se si vuole avere un controllo della qualità dell'aria interna ma anche perché sostanzialmente permette un ottenere risparmio energetico se voi volete costruire un edificio in classe A o progettare un edificio in classe A più ormai è fondamentale avere anche un buon sistema di ventilazione meccanica controllata ad altissima efficienza i tipi di ventilazione fondamentalmente sono due abbiamo la ventilazione naturale e appunto ventilazione meccanica controllata ventilazione naturale che deriva dai servamenti dalle posi temperature che posso prevedere sulle murature dai caminetti eccetera sostanzialmente situazione meccanica controllata invece può essere semplicemente di due tipi a semplice flusso e a doppio flusso vediamo le differenze tra semplice flusso e doppio flusso sostanzialmente nell'immagine in alto a destra vedete un sistema semplice flusso in cui vi è un ventilatore di estrazione sostanzialmente che tramite una rete di distribuzione quindi dei canali va ad estrarre l'aria all'interno dei vari ambienti la depressione creata appunto dal ventilatore richiama aria esterna che passa attraverso delle apposite aperture nelle murature in cui vengono inserite delle bocchette sostanzialmente queste bocchette possono essere anche microregolabili in modo da gestire la portata di rinnovo in funzione dell'umidità interna l'umidità relativa interna i sistemi a doppio flusso invece sono quelli più interessanti e anche quelli su cui noi ci concentriamo maggiormente infatti d'ora in poi quando parlerò di ventilazione meccanica controllata intenderò sempre questi sistemi perché sono quelli più efficienti e anche che permettono un miglior controllo dei ricambi orari sono sostanzialmente formati da un gruppo di recupero composto da due ventilatori un ventilatore di estrazione e un ventilatore di emissione quindi io posso controllare sia la portata di emissione che la portata di estrazione per passare questa aria l'aria interna del mio ambiente attraverso il recuperatore il recuperatore mi permette appunto di recuperare gran parte del calore che altrimenti andrebbe disperso verso l'esterno incrementando così l'efficienza di questa tecnica di retirazione che cos'è la WMC chiaramente l'efficienza per voi è una definizione molto semplice però ci permette di capire di cosa stiamo parlando è un sistema mediante il quale viene garantito un continuo e controllato ricambio dell'aria all'interno di ogni singolo ambiente chiuso la WMC sostanzialmente la retezione meccanica controllata permette sostanzialmente di adempere due importanti funzioni mantenere la qualità dell'aria interna elevata e quindi ridurre l'inquinamento indoor ridurre l'umidità interna invernale all'interno dei locali e impara queste due funzioni sostanzialmente con il massimo risparmio energetico vediamo intanto il primo punto ossia quello relativo alla qualità dell'aria sostanzialmente è comune pensare che l'ambiente interno sia più pulito abbia meno inquinanti di quello esterno in realtà è proprio l'opposto perché non esiste una barriera cioè la casa non è totalmente ermetica quando io apro le finestre gli serramenti chiaramente gli inquinanti esterni entrano all'interno dell'ambiente a questi si sommano gli inquinanti interni cioè il fatto che vi sono le persone che respirano il fatto che ci sono cucine che ci sono bagni insomma gli inquinanti interni si sommano a quelli esterni quindi se io non prevedo un buon sistema di ricambio dell'aria all'interno del mio ambiente mi trovo l'aria esterna inquinata per gli inquinanti interni e questi inquinanti possono essere di tre nature chimica biologica e fisica se inoltre pensiamo come avevano anche detto i colleghi insomma prima di me chiaramente l'utilizzo di nuovi materiali tecnologici sempre via via più elevati tecnologicamente per creare forti isolamenti però tendono a rendere l'abitazione un po' stagna la casa fa più fatica a respirare proprio perché voglio eliminare quegli spifferi e quelle componenti di ventilazione naturale che ci sono nell'edificio proprio per questo è necessario prevedere un sistema di ventilazione meccanica quindi anche controllata che mi permette di mantenere elevata la qualità dell'ambiente qua qualcuno si è anche messo a calcolare praticamente quante volte bisogna aprire la finestra per avere la qualità dell'aria qui dicono 5 minuti ogni 2 ore 24 ore vedete che questo non è applicabile anche perché un po' solamente una persona che apre la finestra nei 5 minuti ma anche perché questa tecnica chiaramente è molto energivora chiaramente se io apro la finestra entra aria calda o fredda a seconda della stagione e questo poi va a gravare sull'impianto di condizionamento che deve poi riportare l'ambiente in temperatura quindi non è una soluzione valida sostanzialmente qui di seguito abbiamo alcuni degli inquinanti che noi non pensiamo ma respiriamo anche tuttora e tutti i giorni sostanzialmente abbiamo il benzene il monossido di carbonio il formaldeide il biossido di azoto sia gli NOx sono tutti prodotti che derivano dallo smog e dal traffico sostanzialmente a cui si sommano quando è presente il CO2 chiaramente che è prodotto dalla respirazione il radon che è un gas radioattivo che proviene appunto dai materiali di costruzione poi abbiamo etilene tetrafluoroetilene sono un po' più rari oltre a questi tipi di inquinanti chimici abbiamo anche quelli biologici che possono provocare sintomi respiratori anche gravi su 100 persone che vivono continuamente continuativamente in un ambiente malsano 52 di essi sviluppano sintomi legati al tratto respiratorio superiore e 50 tosse 44 ore cedine e anche 30 di questi possono sviluppare l'asma insomma quindi è una cosa molto delicata che deve anche essere prevista non solo per far non solo perché permette di inerzare la cassa energetica ma proprio perché permette di migliorare il comfort abitativo anche stile di vita delle persone un altro problema che accennava prima l'architetto sostanzialmente è la formazione di muffe negli ambienti sostanzialmente quando ad esempio vengono fatti degli interventi di ristrutturazione in cui vengono sostituiti i serramenti ma non viene fatto un adeguato magari isolamento delle murature capita insomma che non venga fatto il capotto esterno venga solo sostituito il serramento in quel caso lì posso avere problemi di umidità relativa all'interno degli ambienti e nella formazione di muffe sostanzialmente questo perché la casa non respira perché ho cambiato i serramenti e dove non ho isolato correttamente i muri soprattutto nelle zone dei punti termici voi vedete che qui in questi casi le muffe questi sono casi molto gravi insomma dove non sia intervenuto ma le muffe si sono formate fondamentalmente nella zona dei punti termici dove la temperatura a un punto superficiale del muro è più bassa ecco in quelle zone può formarsi una umidità relativa localizzata superiore anche al 75-80% che quindi sviluppa proprio queste muffe per quindi abbassare l'umidità relativa e anche per creare un ricircolo dell'aria una movimentazione dell'aria che evita questa umidità localizzata è necessario un impianto di WMC sostanzialmente inoltre se voi pensate che la soglia di massimo comfort sia tra il 40-60% vedete come è fondamentale controllare l'umidità relativa interna sto parlando di umidità relativa invernale perché è solo durante l'inverno che l'aria esterna è più secca e quindi se io sostituisco l'aria interna più umida con l'aria esterna più secca vado proprio a operare questa deumidificazione ecco che è anche possibile controllare i ventilatori che appunto operano su estrazione emissione in funzione dell'umidità relativa di un controllo di un umidostrato per avere proprio miglior comfort abitativo parliamo ora di risparmio energetico sostanzialmente perché la ventilazione meccanica controllata soprattutto quelle che hanno recuperatori oltre il 90% vi farò vedere che è veramente un notevole risparmio energetico ed è per questo che sono fondamentali i propri recuperatori di altissima efficienza vediamo la definizione di efficienza sostanzialmente vediamo che è data dalla temperatura di emissione meno la temperatura esterna diviso la temperatura ambiente meno quella esterna sostanzialmente e quindi ad esempio se abbiamo una temperatura ambiente di 20 gradi una temperatura esterna di 10 che può essere benissimo il caso di adesso praticamente abbiamo che se utilizziamo un recuperatore con l'80% di efficienza stiamo lavorando quindi stiamo immettendo nell'ambiente temperatura di 18 gradi se non avessi la WMC ma un sistema di ventilazione naturale la temperatura di emissione sarebbe uguale a quella esterna ossia 10 gradi quindi vedete la fatica che poi deve fare l'impianto di condizionamento per riportare la temperatura all'ambiente se vediamo le perdite di ventilazione sono date da questa formula semplificata sostanzialmente dove abbiamo che HVK è il coefficiente di spessione termica che è dato dalle caratteristiche dell'aria quindi densità dell'aria e caro specifico dell'aria e dalla portata di ventilazione la portata di ventilazione è un sistema WMC una volta che io scelto il tasso di ricambio aria è una costante sostanzialmente quindi quello che può variare è solo la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di emissione che varia a seconda del tipo di recuperatore che io scelgo abbiamo detto che più il recuperatore è efficiente più la temperatura di emissione è prossima a quella di ambiente e quindi vediamo che praticamente le perte di ventilazione nel caso di adefficienza è quasi nulla abbiamo qui inserito un grafico che praticamente fa vedere un confronto per quanto riguarda i consumi di energia primaria dei vari tipi di ventilazione sto parlando solo di consumi legati alle dispersioni termiche quindi abbiamo che l'apertura di serramente e la ventilazione del naturale è molto sfavorita rispetto a un sistema a ventilazione meccanica controllata con recupero di calore sostanzialmente vi dicevo prima che non è presente quindi un qui è solo il contributo legato alle efficienze termiche sostanzialmente non vi sono i contributi elettrici voi potreste dire sì ma un sistema a ventilazione meccanica controllata utilizza due ventilatori che sono in funzione in tutto l'arco dell'anno chiaramente questo incide sui consumi interni di energia primaria però nonostante questo vediamo quanto sia un'influente rispetto al vantaggio che dà dal punto di vista termico abbiamo quindi fatto una rapida analisi insomma per vedere praticamente quanto sono i consumi elettrici un anno di un recuperatore ad esempio ad alta efficienza abbiamo come data di partenza una superficie di 100 mq quindi un volume dell'edificio di 300 mq un tasso di ricambio di 0,5 volumi ora e quindi una portata di ventilazione fissata a 150 mq ora dati del recuperatore ad alta efficienza per quindi lavorare con questa portata di ventilazione uguale a 20 watt adesso detto 20 watt stiamo parlando di recuperatori di ultime generazioni che sono bassissimi insomma non è come una lampadina semplacera e che equivale a una potenza assorbita in metri quadri 0,2 watt al metro quadro se andiamo a fare un calcolo del consumo elettrico annuale continuativo a 24 ore per 365 giorni all'anno vediamo sostanzialmente che è pari a 3,5 kilowattora elettrica al metro quadro che scusate ad alta efficienza 1,75 kilowattora elettrica il che equivale a circa 42 euro all'anno consumi invece in tali di energia primaria utilizzando il coefficiente di conversione ottenuto dal rendimento medio nazionale della produzione di energia elettrica si ottiene che è pari a 4,3 kilowattora in energia primaria al metro quadro ecco tenete bene questi valori perché tra un po' li ritroveremo sostanzialmente abbiamo fatto anche un caso con un recuperatore a media efficienza quindi non di ultima generazione tecnologia vecchia insomma recuperatore che più o meno ha efficienza di recupero del 50% e avendo anche ventilatori meno performanti il consumo di energia primaria è pari a 8,5 kilowattora al metro quadro abbiamo preso come caso Torino e vediamo che la ventilazione naturale e il consumo di energia primaria solo per dispersione termica chiaramente perché la ventilazione naturale non prevede assorbimenti elettrici è pari a 55 kilowattora al metro quadro un recuperatore di media efficienza invece ha dispersione termica dato che ha un recupero del 50% circa 14 kilowattora al metro quadro termici più 8,5 che era il contributo elettrico che avevamo visto prima la somma quindi dà 22,5 kilowattora al metro quadro se voi andate già a vedere il caso ventilazione naturale contro recuperatore a media efficienza vedete come è già più vantaggiosa questa soluzione se poi andiamo ad osservare invece il vantaggio che dà un recuperatore ad alta efficienza andiamo a 7,3 contro 55 kilowattora al metro quadro quindi un divario diciamo molto ma molto spinto nonostante l'assorbimento elettrico incida più del 50% su tutto il consumo del recuperatore perché appunto i vantaggi termici sono molto elevati infatti qua vediamo anche in via grafica quanto vi ho appena detto è molto evidente insomma la stessa cosa l'abbiamo ripetuta per Bari che è un caso in cui le condizioni climatiche diciamo così fanno sì che le perdite legate all'iniezione siano più basse perché il clima è più favorevole sostanzialmente però vediamo che anche in questo caso il vantaggio è molto significativo adesso concluso con questa introduzione sostanzialmente volevo accennarvi quindi parlarvi di quella che è la soluzione Armec alla vittrazione meccanica controllata residenziale Armec è un'azienda che produce recuperatori dai 100 metri cubi ora fino ai 30.000 metri cubi ora quindi anche per eseguire impianti WMC centralizzati per grossi edifici grosse strutture o sul commerciale o sul terziario in questo caso però ci concentriamo su una gamma di prodotti quindi un prodotto in particolare Repuro che si occupa del residenziale Repuro lo dice anche la parola non è un semplice recuperatore sostanzialmente è l'unione di un recuperatore più un purificatore dell'aria infatti il recuperatore ha efficienze oltre il 90% quindi di ultimissima generazione e di serie su tutte le unità sono presenti i fitri plasma cluster che sono dei fitri purificatori che vedremo dopo come funzionano efficienza chiaramente elevatissime perché utilizza recuperatori in controcorrente con levimento superiore al 90% come vi dicevo vedete la forma non è di quella tipo cubica diciamo così ma è a forma di sezione esagonale materiale è in plastica quindi le lette sono in plastica nonostante questo materiale possa sembrare un cattivo isolante il fatto che siano di uno spessore praticamente infinitesimo permette comunque di avere efficienze molto alte adotta ventilatori di ultima generazione sono plug pan a controllo elettronico che con motori brushless quindi i migliori che ci sono attualmente in commercio e risponde anche già alle direttive rp-ready del 2015 riguardo gli assorbimenti elettrici che questi ventilatori devono avere abbiamo sostanzialmente tre configurazioni la configurazione da 100 a 170 m3 che può essere installata a controsoffitto o a peso a quadro in posizione verticale la versione box small quindi box più piccolino 250 350 m3 adesso stiamo sviluppando anche questa configurazione quindi queste portate 250 350 da installazione come 100 e 170 quindi da controsoffitto e poi abbiamo il box quello più grandino sostanzialmente che va dai 450 ai 650 m3 ora qua vedete le caratteristiche di dati tecnici praticamente le caratteristiche tecniche delle macchine vedete che quasi sempre l'efficienza è superiore al 90% insomma in alcuni casi 89 88 87 comunque stiamo parlando di efficienze energetiche molto spinte il frame il frame 1 quindi 100 170 per appartamenti piccoli fino a 80 metri quadri il frame 2 dai 100 ai 200 metri quadri per per abitazioni appunto già le piccole billette insomma di questo tipo qua billette e il frame 3 dai 200 ai 450 metri quadri di edificio ossia già un residenziale più importante oppure negozi e uffici qui vedete i dati di assorbimento della macchina sostanzialmente alla velocità massima ecco fate caso che la macchina difficilmente viene dimensionata per lavorare al massimo numero di giri chiaramente ci si tiene sempre un certo margine e quindi gli assorbimenti solitamente sono un terzo di quelli che si vedono in questa tabella vi elengo alcune delle principali caratteristiche derivate efficienza ormai l'abbiamo detto campo di funzionamento esteso sì perché grazie ai ventilatori a controllo elettronico io posso scegliere fino a 20 step di velocità disponibili diverse configurazioni le abbiamo visto filter plus una craster di serie su tutte le versioni adesso vedremo di cosa stiamo parlando regolazione integrata la macchina è già dotata dei stem di regolazione pannellino e anche tutto il sistema di gestione degli accessori di cui parleremo dopo progettazione con compatibili ventilatori chiaramente sono adatto al risparmio energetico possibilità di filtro G4 che è di serie in mandata e in ripresa G2 il filtro in mandata G4 può essere anche sostituito con filtro F7 per incrementare la capacità filtrante dell'aria della macchina interfaccia ecosistema WMF che è un sistema che va a gestire tutti i prodotti Armec per il residenziale gestisce venti convertori pompe di calore sempre Armec gestisce recuperatori produzione di acqua calda sanitaria con la pompa di calore gestisce caldaie integrative solare impianti a pavimento quindi è un sistema che è molto interessante che semmai vi invito ad andare a vedere sul nostro sito internet motore di controllo elettronico abbiamo detto ha questa funzione molto importante che è il bypass per il free cooling motorizzato quindi è un bypass automatico che la macchina riesce a gestire da sola praticamente è importante soprattutto per quelle condizioni estive ad esempio in cui la casa si è riscaldata durante il giorno io lo voglio rinfrescare la sera quando la temperatura si è abbassata invece di aprire la finestra utilizzo il free cooling è chiaramente più comodo aprire la finestra però faccia entrare così famosi inquinanti ricordiamo che il refuro è un purificatore anche quindi se io tengo le finestre chiuse cosa comunque un po' difficile insomma perché si è abituati tutti ad aprirle sostanzialmente posso comunque rinfrescare la casa però mantenendo elevate qualità dell'aria e quindi elevate qualità di filtrazione abbiamo anche una versione R con resistenza elettrica di preriscardamento per estendere i limiti anche a meno 15 quindi eliminare quelli che sono le formazioni di brina sul pacco di recupero sostanzialmente solo per i primi più rigidi questo il plasma cluster come vi dicevo prima è un filtro un filtro ionizzatore tante volte questo filtro ci viene confuso con un filtro elettrostatico in realtà non è un filtro elettrostatico non c'entra nulla con i normali filtri elettrostatici che trovate magari su altri dispositivi è un filtro ionizzatore in sostanza cosa fa? va a distruggere direttamente virus, batteri e altre impunità che sono presenti nell'aria come fa? sostanzialmente vi è l'umidità presente nell'aria passa attraverso questo filtro viene ionizzata ossia viene separata ioni H+, e O2- questi ioni O2- vanno a formare dei grappoli di acqua con le molecole d'acqua e vanno a formare quindi quelli che sono detti cluster questi cluster quando individuano un'impurità o un virus si ricompattano andando a formare ioni insedrile O H- questi ioni insedrile O H- aderiscono alla superficie del virus o dell'impurità ed essendo avidi l'idrogeno sottraggono l'idrogeno al virus riformando l'acqua e distruggendo quindi l'agente patogeno qua vedete infatti l'azione prima di plasma craster col virus attivo e l'azione successiva come virus distrutto praticamente dal filtro questa è l'interfaccia dell'acquero ha vinto anche un premio nel 2010 insomma c'è chi piace e chi no come good design e praticamente permette di controllare la macchina velocità di ventilazione la temperatura di soglia per attivare più cooling l'accensione o spegnimento degli accessori con un unico pannellino possiamo controllare fino a 6 macchine distintamente ecco qua gli accessori della macchina ci sono i piedini antivibranti per isolare eventuali vibrazioni come vi dicevo prima la possibilità di avere filtri F7 quindi maggior qualità di filtrazione maggior qualità dell'aria interna una sonda di temperatura che praticamente può essere remotata che quindi è una temperatura aggiuntiva una sonda di temperatura aggiuntiva che nonostante la macchina sia già fornita di sonda all'interno posso utilizzare questa perché è più precisa chiaramente un altro dei accessori importanti molto importanti sono i plenum i plenum di distribuzione dell'aria di trattamento di distribuzione perché al suo interno all'interno dei plenum posso inserire degli accessori di post trattamento sostanzialmente e gli accessori che posso inserire sono resistenza elettrica lampada germicida e uno scambiatore aria-acqua quindi uno scambiatore a batteria allettata alimentata ad acqua resistenza elettrica così come la batteria quando funziona a caldo permette di posteriscadare l'aria per far sì che l'aria di emissione sia alle condizioni dell'ambiente o anche più elevate questo perché capita che passando vicino una bocchetta soprattutto di emissione magari quelle basse o nelle griglie posizionate dove l'aria investe le persone possa dare fastidio anche se la temperatura prossima all'ambiente ma l'eserimento inferiore può dare fastidio e allora con questo accessorio io riscaldo l'aria e non ho problemi di questo tipo la lampada germicida unita all'effetto plasma cluster va ad avere un'efficace sull'abattimento microbiologico del 100% sostanzialmente quindi è molto utile per gli ambienti ospedalieri o per gli ambulatori studi dentistici o anche in locali in abitazioni in cui ci sono persone malate che devono avere la massima qualità dell'aria questa è una ripetizione vi dicevo che con la versione R sostanzialmente è possibile estendere i limiti a meno 15 mentre i limiti di temperatura esterna massima sono di più 50 per quanto riguarda questo tipo di macchina adesso volevo un attimo farvi vedere che cos'è Magellano Magellano è un software che avete anche voi nelle vostre cartelline potete se no scaricarlo gratuitamente dal nostro sito ed è un importante software perché permette intanto di consultare tutta la documentazione di tutti i nostri prodotti proprio tutti quindi c'è sia le schede del prodotto che il manuale tecnico che il manuale di installazione che gli schemi elettrici qualunque cosa vi serva su un altro prodotto voi lo trovate all'interno di questo software che si può aggiornare quindi vi invito magari a aggiornarlo se installate a aggiornarlo frequentemente perché è in continuo aggiornamento le modifiche continue e cosa fa questo software oltre ad avere tutti i manuali permette di verificare il funzionamento di tutti i nostri prodotti a variare delle condizioni di funzionamento stesse ossia a variare delle temperature con cui ad esempio pompa di calore funziona o fan coil venticolettore funziona o stesso recuperatore funziona infatti nel nostro caso che stiamo parlando di repuro permette di andare a simulare a quello che è il funzionamento della macchina alle varie condizioni abbiamo quindi ipotizzato di dover trovare un repuro che si adatti a queste condizioni ossia 100 la prevalenza di qua dovrebbe essere vabbè forse è sbagliata la slide sono 100 metri cubi comunque per 80 pascal e infatti vediamo che se noi inseriamo i dati all'interno del software posso praticamente il software automaticamente mi calcola la macchina più adatta a lavorare con quelle condizioni o con il progetto che io sto eseguendo ecco un esempio di stampa di quello che stampa la macchina in questo caso va bene un repuro 100 mi dà le caratteristiche quindi la potenza di recupero e l'efficienza di recupero quindi con queste condizioni di espulsione e area di rinnovo inoltre mi dice anche quale velocità del ventilatore far andare la macchina per ottenere le perdite di carico che a me servono come vi dicevo Magellano permette di andare a consultare tutti quelli che sono i manuali dei nostri prodotti che sono suddivisi in tre gruppi unità terminali e di recupero di calore gruppo 1 il gruppo 2 macchine per impianto quindi gruppi frigo rooftop condizionatori monoblocco chi più ne ha più ne mette anche le centrali di trattamento aria insomma condizionatori per i cerni sono tutti i prodotti che abbiamo a catalogo e nella terza parte invece di consultare tutta la manualistica riguardante il sistema di espulsione diretta insieme al repuro abbiamo voluto fare uno sforzo ulteriore e quindi fornire anche quella che è la distribuzione dell'area quindi in modo da creare direttamente un impianto WMC completo dalla macchina fino alla bocchetta quindi al terminale di emissione e di estrazione è così un pacchetto chiave in mano che noi vogliamo chiaramente offrirvi e come vedremo dopo vi forniremo anche degli strumenti oppure ci siamo noi all'interno dell'azienda che possiamo dare di supporto oppure lavorare con voi per sviluppare tutto quello che è l'impianto WMC abbiamo tre soluzioni forniamo tre soluzioni una soluzione con il tubo tondo flessibile che è quella standard di mercato la soluzione alto di gamma che è il tubo semiovale flessibile e poi una soluzione di media gamma che è un po' più rara perché è anche complicata della installazione di questo tipo di tubo che è quella rettangolare per quanto riguarda il tubo flessibile semiovale vedete tutti gli accessori e i componenti che noi possiamo fornire a partire sempre dal box di distribuzione perché noi chiaramente gestiamo la distribuzione dell'aria partendo da dei box che fungono come dei collettori sostanzialmente dove a valle del recuperatore troviamo subito il box di distribuzione e i canali che poi si diramano su tutti i vari ambienti quindi a partire dal box arriviamo fino alle valvole di emissione e di estrazione o alle griglie di ripresa di mandata i box vengono nel caso io abbia meno canali di quelle che sono le vie del box vado a gestire le vie supercole e vado a chiudere con dei tappi quindi vedete dal punto di vista di installazione come è semplice la cosa abbiamo anche degli anelli di tenuta che sono si installano a kick quindi sono molto facili e permettono al canale di aderire perfettamente al box di distribuzione forniamo anche delle stappe di montaggio in modo che proprio in pochi minuti è possibile fissare il canale al soffitto al muro o a pavimento per quanto riguarda il tubo semi-ovale forniamo anche dei regulatori di portata che sono praticamente questi diciamo così tasselli pre-tranciati a seconda dei quanti tasselli io vado a rimuovere vado a generare più o meno perdite di carico all'interno del canale in questo modo io posso regolare di fino la portata su ogni canale quindi su ogni locale sul manuale tecnico trovate a quanto corrisponde la perdita di carico al rimuovere dei tasselli in funzione della portata poniamo valvole di estrazione e di emissione che anch'esse a seconda di quanto sono aperte o sono chiuse possono regolare il flusso di emissione o di estrazione abbiamo le griglie di emissione piana e adesso abbiamo anche qui non sono rappresentate le griglie elettate con elette mobili o elette pisse la stessa cosa vale per il duplo circolare quindi non mi soffermo più di tanto tanto viene gestito allo stesso modo dell'altro tipo di tubo e adesso arriviamo all'aspetto diciamo più interessante ossia come andare a svolgere un progetto WMC abbiamo sviluppato un software si chiama AirDistribution anche questo scaricabile gratuitamente dal nostro sito questo software praticamente guida il progettista guida voi eventualmente se volete provare o se volete fare un impianto WMC nella realizzazione dell'impianto stesso quindi partendo dalla piantina dell'abitazione fino ad arrivare alla scelta della macchina e al posizionamento delle valvole di emissione di stazione all'interno dei locali vorremmo con voi vedere rapidamente vado molto rapidamente a vedere un esempio di impianto WMC come si può farlo con il nostro software si parte si parte dalla pianta dell'abitazione dove vediamo dove sceglierò dove verrà fatta la scelta dei punti di emissione e di estrazione quindi vedete in verde sono i punti di emissione in rosso i punti di estrazione una volta scelto questo e chiaramente viene fatta questa scelta in funzione di regole di buon senso chiaramente i punti di emissione li metterò nei soggiorni sai da pranzo studi e camere d'elettro i punti di estrazione nelle cucine e bagne e lavanderie in modo da evitare la propagazione degli odori all'interno degli altri locali poi sceglierò il tasso di ricambio orari c'è una normativa che ci viene in aiuto che è la 15251 che a seconda del tipo di edificio o dell'aspettativa che io voglio avere della mia ventilazione meccanica controllata mi da già un tasso di ricambio orario ad esempio nel nostro caso quello che avevamo prima era una ristrutturazione quindi abbiamo scelto proprio come tasso di ricambio orario 06 volumi ora scelta quindi sapendo le caratteristiche dell'edificio quindi la metratura e il volume interno scelto il tasso di ricambio orario riesco a capire qual è la portata effettiva per ogni singolo locale l'importante adesso scegliere quanti canali portare per ogni emissione e per ogni istrazione la scelta viene fatta in base alla portata massima per canale sostanzialmente la portata massima per canale quindi il numero di canali data portata di ventilazione diviso massima portata aria per canale noi abbiamo sul posto 32 metri cubi ora perché questo valore non è un valore sparato a caso è un valore importante perché permette di mantenere basse le perdite di carico ma soprattutto permette di tenere i rumori quasi inesistenti quindi usci per ventilazione con questa portata abbiamo testato i nostri tubi in una camera che abbiamo che è semi anecoica quindi permette di testare la rumorosità dei nostri prodotti e abbiamo rilevato avere decibel praticamente molto bassi posso anche lavorare con portate più alte però questo mi fa devo accettare poi il fatto che ci siano perdite di carico più elevate e la rumorosità inizia ad essere un aspetto sensibile una volta che ho calcolato quindi il numero di canali per ogni locale quindi per ogni locale di emissione e di estrazione dovrò indicare quanto è la lunghezza del canale quindi tornando alla nostra piantina misuro il canale e inserisco quanto è la lunghezza del canale per ogni singolo locale questo chiaramente serve per calcolo delle perdite di carico definisco in un'altra videata i tipi di accessori che voglio mettere all'interno della mia VMC i tipi di bocchette quindi di valvole di estrazione di emissione di tipo di griglie lo sceglio per ogni canale fatta questa scelta software calcola il caduto di pressione totali quindi le perdite di carico che la macchina deve vincere per poter lavorare quindi un'altra portata d'aria e la caduta di pressione adesso resta solo da scegliere la macchina software è un problema automatico si dice già qual è la taglia più adatta a lavorare in queste condizioni in questo caso abbiamo visto che è un puro 4,50 che lavora con velocità 16 ultimato questo quindi avendo scelto tutti i componenti del mio impianto VMC il programma mi fa la lista praticamente della spesa mi dice per avere il tuo sistema VMC devi prendere tutti questi componenti e quindi fa una lista con questa lista io posso direttamente richiedere un'offerta quindi vedere quanto costa l'impianto oppure procedere direttamente all'ordine d'acquisto io vi ringrazio ho concluso grazie per la visione grazie a tutti 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 grazie a tutti